Nel Duomo di Volterra, un delicato scultore toscano del Quattrocento immagina il gruppo sacro della natività con gentile compostezza. La Vergine ha la spiritualità raccolta delle madonna di Donatella. Nel bimbo Gesù si esprime una gioiosa vitalità. Lo spunto attribuito a Benotto Gozzoli è un fessoso dipinto che ricorda il celebre affetto della Cappella Medici Riccardi in Firenze. Ancora a Volterra, un gruppo in terracotta ci mostra le sacre immagini in semplice raccoglimento.